buongiorno a tutti oggi vi presenteremo il nuovo metodo di allungamento che combina l'utilizzo delle dual form e di creativo acryl and gel nelle due tonalità pastel pink e white per realizzare un bellissimo effetto baby boomer iniziamo il nostro trattamento vaporizzando all prep soluzione preparatoria che ha la funzione di detergere e di idratare l'unghia andiamo delicatamente a spingerle cuticole con lo strumento spingipelle a cucchiaio questo spingicuticole ha una parte che è fatta cucchiaio e l'altra scalzino procedere opacizzando la lamina ungueale con la lima manicure americana questa lima possiede un'anima interna in legno d'acero che le conferisce una maggiore facilità di utilizzo al fine di preparare l'unghia al trattamento applichiamo i preparatori per primo andremo a utilizzare evo prep su tutta la superficie dell'unghia questo prodotto deidrata la lamina ungueale ed elimina tutti gli oli naturali presenti sulla superficie dell'unghia in base alla tipologia di unghia che ci troviamo di fronte scegliamo il primer che andrà utilizzato in questo caso che abbiamo un'unghia che una produzione di sebo regolare applicheremo evo primer acid free lo andiamo utilizzare a pennello scarico su tutta la superficie dell'unghia una volta che abbiamo applicato i preparatori possiamo procedere con l'applicazione di evo base andiamo a a stendere questo prodotto a strato sottile su tutta la superficie dell'unghia facendo particolare attenzione sigillando il margine libero il prodotto polimerizza in lampada tecnologia led uv 48 watt 60 secondi preleviamo dal tubetto la giusta quantità di creativo nella tonalità white il prodotto non crea filamenti posizioniamo creativo all'interno della dual form nella zona del bordo libero e gli diamo la forma e la lunghezza desiderata che andremo poi a trasferire sull'unghia andiamo a sfumare il prodotto con l'apposito pennello combined immerso nel liquido modeling solution prelevare con la spatola del pennello combine la tonalità pastel pink e la posizioniamo nella zona della dual form corrispondente al letto ungueale il prodotto va lavorato con l'apposito pennello della linea creativo inumidito nella modeling solution una soluzione apposita per la lavorazione del creativo una volta che siamo soddisfatti del lavoro effettuato andiamo delicatamente ad appoggiare la dual form sull'unghia facendo particolare attenzione al giro cuticole polimerizziamo in lampada tecnologia led uv 48 watt per 60 secondi facendo una leggera pressione sul bordo libero togliamo la dual form che potrà in seguito essere riutilizzata per future applicazioni procediamo con la limatura dando la forma giusta ai laterali e al bordo libero dell'unghia utilizziamo la lima buffer surf a doppia grana da una parte un buffer levigante e dall'altra è una lima abrasiva con la medesima lima buffer surf andiamo ad opacizzare la superficie dell'unghia ed in seguito eliminiamo la polvere di limatura con un pad imbevuto di cleanser eliminiamo la polvere di limatura procediamo con la stessura di evo gloss al fine di lucidare e sigillare il nostro lavoro lo andiamo ad applicare su tutta la superficie dell'unghia facendo particolare attenzione al giro cuticole e sigillando molto bene il bordo libero polimerizzare 60 secondi in lampada eclipse dopo aver eliminato la dispersione del lucidante con cleanser magic andiamo ad applicare l'olio nutriente per cuticole lo applichiamo sulla zona del giro cuticole e lo andiamo a massaggiare per nutrire le cuticole e la stessa matrice ecco il risultato finale come potete notare in pochissimo tempo abbiamo eseguito una raffinata e naturale ricostruzione con il metodo estrosa dual form ed abbiamo realizzato una bellissima nail art baby boomer